non c'è il lupo tranquillo e anche personaggio sei il bambino o il lupo? lo scoprirai madonna santa come cavolo hai fatto a prendermi? Gesù ma non succede mai a me non è giusto non lo so chi è? no merda chi è? no gente chi è? ragazzi posso dirvi una cosa? si vaffanculo cazzo dai dai come on bevo dai ti seguo dove? non so dove andare nemmeno io correte giovani correte che è meglio ok questa è una porta murata vaffanculo vaffanculo ah già mi dimentico che ho i poteri perché ho i poteri che non funzionano però me li avrei già finiti correndo ah hai ragione è lo stesso tipo di potere ah scusate sono un lupo stupido dove siete giovani? dove siete andati di bello? wow ah ho trovato cose mi sono cagato anch'io anch'io ho avuto il telefono ho visto questa cosa avvicinarsi mi fa il culo oh 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 hey knight vieni a giocare con noi corri 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 fuga 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 bastardi ancora mi scappa c'è il nemesi cazzo di merda di infarto di cuore quando mi conoscete sono anche una persona simpatica orcocane mi avete messo chiudete la porta pazzi guarda se mi sono bloccato sulla torcia ma dimmi tu dovevate chiudere la porta non è importante ragazzi pazzi ogni errore lo pagherete adesso ah ma siete là? ah ma siete da tutta l'altra parte e bastava dirlo chi è là che corre? ho visto un signore che corre venga corre di qua che siamo amici tutti perché? no che bastardo si che bastardo fai premi 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 premio si si no cos'è? io sono giù cos'è successo? no cos'è successo? perché sono banchato giù? ciao ciao c'è cane chi è salito su? nessuno no ci sono chi è kanzuki lasciaci in pace c'è cane guarda che bastardi che corrono loro ma che succede? perché non mi corre più il lupo? c'ho il lupo anziano io mi sa dove siete giovani? ah cazzo che schifo c'è un ragno morto no 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 ehi buongiorno ma no e stavolta ti prendo cavolo ok e mi resti morto lì e cortesemente e mi vada a lavare la biancheria lei non è giusto dov'è Rian? su o giù l'ascensore adesso è su ha usato l'ascensore nel momento sbagliato bisogna stare attenti con gli ascensori i ragazzi sono pericolosi ehi ciao no 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 lasciami stare lasciami stare vieni qua signor edb1 posso sembrare pericoloso ma sono molto amichevole in verità ok ti ho perso porco di quel cane sono un lupo troppo vecchio ehi ah cazzo no dove sei andato? ah sei qua ok vieni qua no 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 vieni qua parliamone santo cielo vattene via cazzo ma santo cielo ci conosciamo da una vita vieni qui che fanno tutti i amici vattene via porco cane quanto oh non riesco 8 secondi 8 secondi cazzo ce la fai ce la fai c'entra a fare merda merda guarda ma non è un umano è una cavalletta poxy porco cane oh oh io l'ho visto tra l'altro alla fine sono tornato in ho aperto una porta l'ho richiusa santo cielo me l'avete fatta sudare questa non ce l'ho fatta knight ciao come va ciao knight oddio knight ok via 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 ian 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 è astuto è troppo astuto guarda dove lo spawn via ma è lì ma te via 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 ragazzi si finalmente vado a vado a fare il culo che ti ho fatto se mi chiude ancora una volta la porta no diciamo che non ho visto ian passare la manetta vero correte 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 ian che personaggio sei il bambino o il lupo lo scoprirai madonna santa come come l'hai fatto a poco oh cazzo oh gesù che colpo complimenti per la giacchetta signor ian comunque molto bella bisogna dirlo oh è una beffia ma ce l'ho solo il bambino del cazzo ma porca ehi buonasera corri 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 ian corri ian cavolo l'ho perso ma sei già stanco anche tu uh ce n'è uno vicino no non è vero lupacchiotto sento torti nooo peccato ehi collega fantasma buongiorno sono solo nooo no merda benissimo cazzo peccato cazzo grande sufi shichi con ben due minuti di vantaggio e ah ragazzi c'è una cosa importante che vi devo dire si oh fuck you no ma io starò anche qua mi sento mi sento abbastanza no no corra che è meglio glielo dico io in maniera molto amichevole ma sei già spawnato no 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 tranquilli avete ancora 7 secondi di vita il resto saranno 5 minuti di paura qualcuno mi dà delle indicazioni stradali più precise ma siete da queste parti ah peccato no che peccato chi è vieni qua vieni qua non scappare accetta il tuo destino dove sei andato muori vaffanculo dove no mi era sparito di colpo bravissimo ah siete di là buono buono adesso arrivo knight knight di qua muoviti knight anche vieni di qua tutti i tuoi cloni io mi hai fatto vedere le mie fauci porco cane boom ah fuggi fuggi sto fuggendo sto fuggendo non abbastanza forte san crispino san crispino cos'era ho cercato di distrarti chi manca ancora mi ha spiazzato col san crispino venga 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 si ma ragazzi dai non seguitemi andate via ciao ciao e poi ho paura quando vedo davvero il lupo non c'è il lupo tranquillo comunque sta arrivando il lupo ti viene mi avete distratto ma no è un'impressione ma quando mai la mia vendetta sarà dolce come dolce ci ucciderà diabete praticamente chi no chi è oh no knight no knight è quello che ha giocato più volte come svezzo che culo avrà contattato i tizi del gioco è un raccomandato ah ma siamo qua ok arriva porco di quel cane vai così me lo distratti porco cane donna che colpo ciao ciao knight p1 grazie di avermi trovato subito che mi sentivo solo soletto che bel bambino dov'è il bambino boxy vieni a fare il fantasma con noi ci manca casper ciao boxy che ansia quant'è carino e puccioso ha tipo sangue ed è uno spirito che ti uccide sul colpo però è troppo puccioso secondo me sembra Hitler da bambino comunque non capisco qual è il fantasma chi è il bambino aiuto tranquillo eccolo qua beccato subito sul colpo e il bambino è contento sai che è tardi perché adesso devo fare un po' di ma perché io non lo sono mai figa vi ammazzo e lo se la prende con la casualità ah potevo fare il bambino per cambiare non fa una piega aspetti che la piego io la colonna vertebrale appena la becco guardi ma queste minacce no ma in maniera amichevole totalmente amichevole cosa pensate ragazzi cioè guardi no 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 io non ce l'ho fatta a fare quel salto devi fare la giusta coordinazione tra sprint e salto e ciao ragazzi e si se voi sperate che io ci abbia la giusta coordinazione è finita oh c'ho la giusta coordinazione oh cazzo oh cazzo ho visto la scena dai che ci coordiniamo insieme porco cane che mi è finito lo sprint no 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 dai fammi passare il brutto prosciutto vieni qua vieni qua zuki 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 dove sei andato zuki ho visto un prosciutto e mi sono teletrasportato ho visto un prosciutto ma come che scusa non mi faccia ste scuse così però anche lei aiuto 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 io ti aiuto io zuki arrivo in tuo aiuto tutti tranne tu tutti tranne tu ma come perché io no io quando voglio dare una mano io la gente non viene poi ma che culo mio dio è mezz'ora che vedo Delon non mi ha visto quando vedrai il video Delon riderei tanto porco cane quando ti finirai nelle mie fauci vedrai quattro ridi tu porco di quel cane da dove vai ma cosa c'è perché ridete oh mio dio che culo oh non ho preso nessuno sono il lupo più schifoso della storia degli horror che culo almeno uno almeno uno me lo prendo no si ho fatto veramente schifo santo cielo in questo episodio ho dovuto faticare molto più del previsto purtroppo sono un lupo di una certa età e quei giovani che mi hanno invaso la casa corrono come delle lepri la prossima volta gli sparo con la lupara lupo lupara no Gesù che battuta idiota beh ho toccato gli abissi della pubblicità stavolta come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti se possibile mettete un mi piace e condividete il video su facebook per aiutare il canale a crescere se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata noi ci vediamo nel prossimo video ciao iscrivetevi